ed eccoci qua ragazzi siamo in diretta con il torneo che vede oggi a confronto la fiorentina il genoa il lecce grandi partite io sono dell'ican coach manager e streamer della acf fiorentina e quindi cercherò di essere imparziale nella diretta di questi bellissimi match il primo che va in onda appunto è il big match tra fiorentina e genoa anzi fiorentina e lecce fiorentina e lecce la prima partita diamo il nostro giovi è stata appena acquistata appunto dalla fiorentina contro il lecce in una partita che ha anche un po di classico una partita che si è vista tantissime volte nella vera serie a quindi vedremo che spettacolo ci offrirà innanzitutto vediamo la squadra del giocatore lecce una squadra per chi magari conosce poco fifa abbastanza diciamo base non ci sono dei grandi fenomeni abbiamo sicuramente capitano pugio l'ex bandiera icona del barça a guidare la squadra del giocatore del lecce quindi chissà se riuscirà a stupirci contro questa squadra invece molto ben assortita del nostro giovi che vanta giocatori del calibro di r9 craif icone importantissime e oltretutto giocatori fortissimi su fifa e allora parte subito la viola con van bisacca che scarica per james attenzione cante cante per caif giustamente torna indietro da firmino e allora mendi il terzino del real scarica per caif cerca lo spazio franco bollato però riesce a trovare r9 ronaldo crocchetta ma varan non ci casca rimane fermo e allora si riparte si riparte cante che riesce a riprendere però palla per la fiorentina r9 r9 mbappé vede benissimo craif serie di finte vede ancora mbappé attenzione fuori gioco fuori gioco era una bella manovra quella di giovi ma in fuori gioco e quindi il lecce può ripartire con walker dal gilessa anche lui però per il cantè nif puyol cerca di far ripartire l'azione giustamente bisogna ragazzi gestire palla ovviamente le partite tra pro spesso si diciamo mostrano un po stesso palla ragionatissimo quasi al limite del ragionato perché entrambi non vogliono perdere palla infatti giovi capisce tutto al zil pressing e riconquista palla un pochettino il giocatore del lecce sente la pressione quindi si fa rubare palla dal giocatore viola che fa questa serie di scambi craif ancora cantè r9 r9 grazie 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 la manona e allora James per Luiz Ronaldo, Ronaldo chiuso dalla morsa dei quattro difensori riesce a riprendere palla ancora Ronaldo ci riprova, si immola il difensore del Lecce incredibile e allora di nuovo Nainggolan per Puyol Mendy allora Puyol ancora, sempre lui Mendy prova sempre sulla sinistra e allora siamo ancora lì con Puyol Nainggolan Bayheader, il Lecce pericoloso a settantunesimo incredibile Cantè, ancora Nainggolan Nainggolan incredibile ancora Areola Cantè e Cruyff cerca di far ripartire la Fiorentina con James però il Lecce questa volta ha alzato molto il baricentro la squadra giallorossa ma Van Bissakà legge molto bene l'azione quindi far ripartire la viola con Cruyff ed eccolo qua R9 e scarica per Cantè il giocatore francese per l'altro giocatore francese Mbappé catena di sinistra totalmente bleh con Cantè Mendy e Mbappé e siamo attenzione al fenomeno R9 vede Cruyff prova la crocchetta R9 torna indietro Gigio neggia un po' troppo Cantè riesce a far sua la palla e quindi si riparte ancora con il lancio lungo del Lecce Firmino fa buona guardia e quindi Cruyff importante per R9 James vede Cruyff Cruyff sulla destra va verso il centro serie di Fintem Mbappé Scopthorn si ferma è proprio lì all'angolino il numero 7 francese della viola grandissimo gol risultato rotondo della Fiorentina 3 a 0 sorride Giovi dalla Cam e quindi 3 a 0 risultato in questo momento molto importante però il Lecce sicuramente non demerita ha sicuramente avuto grandissime opportunità siamo ancora all'ottantaquattresimo FIFA può spesso regalare emozioni attenzione Bayheter palo sulla ribattuta però c'è il fuorigioco fuorigioco del Lecce che sfiora l'1 a 3 bella azione del giocatore del Lecce che aveva portato avanti un ottimo contropiede veramente allora cante per Cruyff Cruyff prova l'elastico cerca di far stati alla squadra con queste skill il giocatore viola e attenzione R9 drag back torna indietro cerca di servire il profeta ma franco bollato da Nangolan giocatore del Lecce usa veramente molto bene i mediani attenzione James di destro bellissimo questa azione della Fiorentina proprio nel momento magari dove il Lecce sul capo col giumento di fronte stava accorciando le distanze allora Nangolan cantè Nangolan ottima attenzione Mendy vediamo se il Lecce riuscirà almeno a fare il gol della bandiera invece no fischia l'arbitro 92esimo bella partita tra Fiorentina e Lecce 4 a 0 come potete vedere ragazzi dai dati della partita la partita è stata tutt'altro che così scontata visto che abbiamo avuto ben 6 occasioni da parte del Lecce che sicuramente meritava almeno l'1 a 0 quindi sicuramente una partita non scontata ben giocata da entrambe le parti cosa ne pensate ragazzi chi è tifoso del Lecce e della Fiorentina nel frattempo il buon Giovi cerca di spiegare ai propri follower come funziona il funzionamento della Serie A e quindi in base al nostro programma adesso dovrebbe esserci sempre un'altra partita della Fiorentina cioè Genova Fiorentina altra partita di cartello che si prospetta ai nostri occhi questa volta abbiamo un altro pro player molto importante Gabri invece no si fa si fa anche il ritorno si gioca anche il ritorno essendo quindi best of two quindi c'è il ritorno con Lecce attenzione quindi Lecce potrebbe dopo aver visto questa partita dopo aver appunto saggiato le abilità di Giovi riuscire magari ad avere la meglio contro il giocatore Viola ecco una volta Maglia a Viola questa volta però il Lecce no rimette la classica maglietta giallorossa e quindi vedremo cosa succederà in questa partita di ritorno solo che non ci sarà ragazzi una somma gol in pratica ogni partita ha i punti come appunto nella classifica quindi se se il Lecce dovesse battere la Fiorentina si ritroverebbe con tre punti quindi in questo momento la Fiorentina è avanti con tre punti se questa partita dovesse finire per esempio in pari ci sarebbe un punto a testa come appunto nella classifica della serie A del campionato reale quindi chissà cosa succederà in questa partita dove tutto è possibile ci aspettiamo una risposta importante che non gioca male il ragazzo del Lecce lo dico in quanto allenatore viola e quindi da tempo osservo i ragazzi oltre che allenarli e ha una buona manovra deve soltanto rompere il ghiaccio che ha avuto delle occasioni importanti dove Areola è stato veramente top e quindi si riparte con Sterling il Lecce attenzione a Firmino prova ingaggia il duello con Blanc viene fermato e allora Mbappé Mbappé prova a saltare anche lui ma riesce col fisico a recuperare palla e allora Cantè Craif attenzione a Craif bene per Mbappé Bayedder Mendy Lecce con Puyol il capitano del Barcellona serve bene Walker trova Sterling Pogba serve benissimo Sterling attenzione bella giocata il giocatore del Lecce Sterling Pogba cerca il movimento e trova Firmino bello il colpo di tacco soltanto un grandissimo Cantè in ripiegamento salva tutto e si riparte con Craif il profeta olandese per Firmino James R9 fa paura tutte le volte che prende palla il campione brasiliano il fenomeno e qua ancora Craif per Cantè Totti la versione più forte dell'intero gioco di Cantè e tra i giocatori centrocampisti più forti dell'intera panorama mondiale soprattutto videoludico la sua versione team of the year mentre il Cantè normale passa Neymar che scarica bene per Mendy passaggio di ritorno per Neymar ingaggia il duello con Blanc torna bene però la Fiorentina ancora una volta Cantè che però forza la giocata ma fortunosamente si recupera palla con Firmino e allora Mendy prova per Mbappé ancora Mendy Craif sempre Cantè fulcro del gioco Craif abbassa tantissimo il suo raggio d'azione perché prova spesso l'1-2 con il R9 questa volta il Lecce capisce tutto e prova in qualche modo a ripartire per via centrali con Cantè Ben Yedder anche lui questa volta si è abbassato tantissimo per cercare di dar manforte alla manovra del Lecce e allora Pogba Sterling attenzione Walker Cantè Pogba ancora il francese Cantè per Ben Yedder ancora Pogba prova dalla distanza ed è un gol incredibile è un gol pazzesco un gol fenomenale del francese Pogba toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali incredibile grandissimo gol del Lecce che si porta in vantaggio sorprendendo un po' tutti noi ma con un gol di pregevole fattura come immaginavo un giocatore molto molto valido e allora Craif prova la crocchetta Madegea con i guantoni parata eccezionale sul kickoff che ragazzi ricordiamo sempre il kickoff è un'arma veramente importante per chi attacca ci vuole la concentrazione massima per la squadra che difende il kickoff è un grandissimo De Gea ha evitato il pareggio allora Nainggolan prova per Sterling ancora Beyerder attenzione ha provato un bellissimo colpo di tacco ben intercettato dalla viola e allora James Ronaldo Craif torna indietro per Cantè il presidente Blanc per Mendy che trova Mbappé ancora 1-2 con Mendy vediamo se proverà a cercare R9 ancora Craif attenzione R9 dentro l'area un gol incredibile del fenomeno tutte le volte che il brasiliano è dentro l'area fa tremare i polsi delle squadre avversarie grandissimo gol della Fiorentina e si ristabilisce la parità 1-1 e si riparte con Walker il Lecce che però sembra avere un piglio decisamente diverso rispetto alla prima partita e allora a Cantè per Mendy Varane Pogba attenzione a N'Angolan N'Angolan Bejedder 1-1 contro Blanc che fa valere la sua imperiosa stazza e fa ripartire la Fiorentina con Mbappé Mendy ancora una volta la catena di sinistra funziona veramente bene Mbappé cerca di far salire la squadra si propone R9 R9 entra in aria R9 attenzione serie di finte ma Varane non ci casca bravissimo il giocatore del Lecce a rimanere fermo e aspettare la mossa del brasiliano e quindi Cantè per Puyol N'Angolan cerca di mettere ordine Krijf però con una forza incredibile riesce a far recuperare palla la Fiorentina Mbappé grande caressa grazie grazie e allora attenzione R9 R9 sul lato di destra trova il profeta attenzione Puyol elegantissimo lo spagnolo Nainggolan Neymar a spazio a spazio Neymar attenzione drag back siamo al 45esimo ragazzi momento cruciale di questa partita Van Bissaká fa valere le sue doti di intercettazione allora James sempre lui prova per Mbappé sulla sinistra vediamo se prova la sgroppata cerca di convergere per James attenzione R9 una skill di troppo R9 questa volta infatti la faccia stizzita del giocatore della Fiorentina che dopo aver riuscito a trovare lo spazio soprattutto lo specchio eccede nel funambulismo e quindi viene fermato giustamente da Puyol bella partita ragazzi due squadre sicuramente il Lecce dopo lo scotto della prima partita sta giocando decisamente meglio non è una passeggiata è una partita anzi veramente alta tensione Kantè e allora Bobby Firmino Bobby Firmino trova R9 ancora batti ribatti prova il tiro da fuori ancora Kraif elastico R9 altro elastico ed è un gol bellissimo serie di elastici il fenomeno gol pazzesco dentro l'aria non fallisce e quindi vantaggio Viola grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pujol, bravissimo nella lettura, e allora Walker, Nainggolan, Kanté, il Lecce, cerca in qualche modo di gestire una manovra difficilissima. E allora Kanté, attenzione a Kanté, porta palla, sfida, il Kanté Toti, chi ha la meglio, intercetta, legge benissimo, e allora R9. R9 contro la difesa del Lecce, primo dribbling riuscito, Varane chiude benissimo la traiettoria, impedisce al giocatore della Fiorentina fenomeno di arrivare in area. E allora attenzione a Neymario, van Bissacà, e allora James, ancora la Fiorentina, riparte sempre dal suo numero 14, il più grande numero 14 della storia del calcio. Parliamo di Johan Cruyff, ottimo Mbappé intanto sulla sinistra, fa letteralmente impazzire Varane, attenzione Cruyff. Ottimo per James, ancora Cruyff, incredibile, un siluro pazzesco dell'olandese, fa barba e capelli al palo, un tiro incredibile del giocatore olandese, grandissimo. Il Lecce si salva dal possibile 3-1, e allora Neymario, Neymario per Kanté, Kanté, in una posizione quasi da trequartista, Bejeder, Neymar, piedi vellutati, ma decide di tornare su Varane. La fascia è veramente intasata, quindi il Lecce trova però in Bejeder, che combatte col fisico Nainggolan, ancora Bejeder, buona l'idea per Pogba. Ma Fiorentina chiude molto molto bene, e si riparte sempre con lui, il numero 14, proprio Cruyff, serie di skill, attenzione, Pogba, però non si passa. E quindi fa ripartire il Lecce, ultimi minuti ragazzi, 82esimo, Neymario, Neymario, Mendy. E allora Pogba, ultimi minuti per cercare di portare il pareggio a casa, Bejeder, Nainggolan, attenzione a Bejeder, palo clamoroso! E' solo un grandissimo Firmino che rischia, rischia veramente tanto con quel controllo dentro l'area, libera, l'area di rigore viola, ma incredibile, azione clamorosa del Lecce. Ancora il palo colpito da Bejeder trema, una botta violentissima del folletto francese, e allora si riparte con la viola, Mbappé, elastico, torna indietro, cerca con le finte di far salire la squadra. Nel frattempo Mendy, Kantè, Bobby Firmino. Insomma, una manovra compassata per cercare di trovare il pertugio, lo spazio, che potrebbe essere appunto determinante. Attenzione a Ronaldo, Ronaldo prova a giro, De Gea, sicuro, sul suo palo. Importante parata questa del portiere dello United. Quindi si riparte ancora, sempre da lui. De Gea, dal rilancione, quadrato, vince il duello aereo, ma basta così! La Fiorentina porta a casa anche la seconda partita contro il Lecce. Sicuramente, ancora una volta, una partita molto, molto combattuta, dispetto all'andata. Sei tiri, sei occasioni a quattro, la Fiorentina con il Lecce. Veramente importante questa partita. Quindi adesso toccherà al Genoa. Toccherà sicuramente al Genoa contro un terribile player come Gabri. Grande, 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 queste prime due partite, gran calcio. Non ci siamo mai annoiati. Un Lecce mai d'uomo sicuramente meritava qualcosa di più, indubbiamente. Ed eccolo qua. Genoa-Gabri contro I'm Joey 69. Genoa-Fiorentina. Una partita di cartello per chi magari è Avezzo ai palcoscenici di FIFA. Conoscerà sicuramente entrambi i giocatori. Entrambi hanno fatto eventi live importanti. Quindi doppia sfida dall'alto tasso tecnico. Oltre che al blasone delle due squadre. Ci aspetta un match importantissimo. Andiamo a vedere la squadra del Genoa. Una squadra di primo ordine. Eusebio Bebi, Blanc, Vieira, Messi e Manet. Difesa particolare, esotica direi, a questo punto del gioco con Lenglet e Varane. Molto scelte particolari per il giocatore del Genoa. Vedremo questo grande match e cosa saprà offrirci. Si vede subito comunque il tocco di Gabri quando Tocca i giocatori quando li seleziona. Prova subito la sgroppata. Vince di fisico. Attenzione Manet. Prepotente il fisico del giocatore maliano del Liverpool. E allora Mbappé. Ancora per Blanc. Cruyff questa volta. In fase di ripiegamento. Però forza la giocata. La Fiorentina. E quindi il Genoa. Serie di scambi velocissimi. Mbappé. Torna indietro. Trova Eusebio. Attenzione a Blanc. Cruyff chiude tutto. Bisogna veramente usare un possesso parsimonioso. Perché il giocatore del Genoa è un giocatore molto valido. Pericolosissimo. E soprattutto in ripartenza. Trova delle linee di passaggio. Che in pochi a mio avviso riescono a trovare. E allora Firmino. Cruyff. James. Si affaccia alla Fiorentina. Non è di rigore. Ma Militao. Clinical. Nell'intervento fa ripartire il Genoa. E attenzione Mbappé. Blanc. Blanc per Viera. Centrocampo molto fisico. Quello del Genoa. Con Blanc e Viera. La coppia francese. Fa valere i propri. I propri. Diciamo. Il proprio peso. In fase di intercetto. Ma come avete visto. Pecca in fase di. Costruzione della manovra. E quindi la Fiorentina. Riesce in questo momento. A imbastire. Un'azione. Con Mendy sulla fascia. E allora Blanc. Il presidente. Per Roberto Firmino. Che sbaglia. Firmino. Non da lui. Questo drive in passe. Allora Mané. A campo. Cerca Blanc. Ancora Blanc. Ottimo questo passaggio per Eusebio. Eusebio trova spazio. Attenzione. Van Bissaka. Fallo. Attenzione. Siamo al limite dell'aria. Messi. Prova lo schema per Eusebio. Krijf. Attenzione. Ancora Viera. Ci riprova. Luiz. Esce bene. Però Vané. Ritorna. Fallosamente. E quindi la Fiorentina. Può beneficiare di questo calcio di punizione. Roberto Firmino. Cantè. Van Bissaka l'inglese. Non vede spazio. Prova a essere bravo. Passimonioso. Perché sa benissimo Jovi che una delle armi più importanti del giocatore del Genoa è proprio il pressing. Quindi infatti l'abbiamo visto proprio in questo momento. Riprendere palla e lanciarsi nella corsa con Mané. Che però sbaglia. Attenzione. Sbaglia. Sbaglia. James ancora sempre lì. R9. Trova benissimo. Sbaglia. Che si invola in un ball roll. Con la suola. Cercava di creare la superiorità numerica. Ma il giocatore del Genoa è veramente, veramente forte in fase difensiva. Soprattutto nell'uno contro uno. Attenzione. David Luiz. Rischia per James che rischia un improbabile colpo di tacco ma riesce la Fiorentina a uscire. Alza molto il baricentro del Genoa. E allora Van Bissaka. Questa volta Mané capisce il movimento dell'inglese. Ancora una volta sempre Mané che quasi francobolla. Quasi marca uomo. Il terzino della Fiorentina. Molto importante questa manovra in fase di non possesso del giocatore del Genoa. E allora Ronaldo. Bappé. R9. Per Cruyff. James. Deve per forza tornare indietro il pressing. Però trova attenzione un corridoio. Forse un corridoio per James. Ottima la difesa della palla. R9. Ancora. Bappé. Bappé. L'englete. Con la forza. Grandissimo questo intervento di Gabri. Che veramente dimostra ancora una volta di non temere nessuno in fase di uno contro uno. pur avendo dei difensori non al top. Complimenti al giocatore del Genoa. Che in questo momento imbastisce l'azione con Blanc. Vierà. Sicuramente ha qualche problema. Però Eusebio. Attenzione. È pericolosissimo. Questa è la sua zona. Serie di Barrol. Mendy. Capisce tutto. Una forzatura. Non da Gabri. E allora R9. R9 per James. Si guarda attorno. Trova Kanté. Ancora James. Circondato dalle maglie rosso-blu. E allora Van Bissaga. David Luiz. E si riparte con James. Cruyff. R9. Forse 4 contro 4. Ma l'Engle è sontuoso. Legge il drag back del fenomeno brasiliano. Attenzione. 2 contro 2. 4 contro 2. Messi. Attenzione. Per Eusebio. E si è successo. Ed è gol. Su una ripartenza micidiale del Genoa. Messi ha visto lo spazio. Ha giustamente allungato la falcata. E servito Eusebio. Un assist. Un'occasione che il portoghese non poteva sbagliare. E quindi. 1-0 Genoa. La Fiorentina tocca. Cercare di recuperare lo svantaggio. Questa folata è stata veramente, veramente importante. E difficilissima da contrastare. E allora Mendy. E il Genoa riconquista palla. Ma stavolta Mbappé. Cerca di dar fastidio alla manovra del Genoa. E attenzione Messi. Messi per Mbappé. Mbappé. Drag back. Trova ancora la pulce. Ma Blanc. Fa valere il suo 1 contro 1. E allora Cruyff. Che rischia. E dà. Attenzione Eusebio. È sempre quella la zona pericolosa. Siamo al 45esimo. Attenzione Blanc. Blanc contro Blanc. Ma l'arbitro fischia un fallo. E salva magari la difesa della Fiorentina. Visto che. È il 45esimo. È un'azione molto pericolosa. Però chissà. Attenzione Mbappé. Gherà. Fischia l'arbitro. E quindi. 1-0 Genoa. Partita molto tattica. Sicuramente il capovolgimento di fronte. Di Eusebio è stato. Veramente clinical. Una voragine si era aperta. E quindi toccherà alla Fiorentina cercare di raddrizzare questo risultato. Roberto Firmino. Per Van Bissacà. E attenzione. Trova James. James deve avere la meglio. Infatti saggiamente trova Cantè. E allora Firmino. Siamo centralmente. Bappé torna indietro. Per cercare di aiutare. La manovra. Viola. Cruyff. Vede R9. R9. Incredibile. Incredibile. Un'azione clamorosa della Fiorentina. R9. Non si capisce. Come abbia potuto sbagliare. Un tiro. Così chiaramente pericoloso. Fa la barba al palo. Clavorosa azione della Fiorentina. Che forse meritava il gol in questa azione. Allora Messi. Vanè. Vanè dentro l'aria. Van Bissacà. Questa volta la meglio. Vediamo in termini di uscita. Giovi. Cosa farà. Blank. Per Mendy. Per Kanté. Graif. Bappé. Attenzione. Torna indietro. Mendy. Kanté. Sbaglia. Ancora una volta. Blank. Fortissimo. In fase di intercetto. Ma blocca tutto Blank. La versione difensore. DC. della Fiorentina. E quindi si riparte con Firmino. Attenzione. Ancora una volta. Sbaglia in uscita. Forza la giocata. Giovi. E dà così. Sfogo al contropiede Genuano. Con Bappé. Serie di finte con lo stick. Attenzione. Messi. Ma questa volta Firmino sdradica la palla. Al talento argentino. E quindi Blank. Davi Luiz. Per Kanté. Che cerca di amministrare palla. Si riparta ancora dalle presidents. Blank. Mendy. Mendy. Si ferma. Lotta. Lotta caparbiamente. Torna di nuovo da Firmino. Le maglie genuane. Sono tutte dietro la propria metà campo. Rendendo veramente difficoltosa. La manovra viola. E si riparte con Blank. Attenzione Mendy. Vierà. Trova. Molto bene Messi. Manè. Messi. Fa salire Blank la squadra. Ancora una volta Vierà. Parsimonioso. Il giocatore del Genua. Riescono tantissime linee di passaggio. Attenzione Eusebio. 2 a 0. Il giocatore portoghese. Un'azione direi abbastanza strana. Visto che la palla andava a una velocità stranissima. Sembrava quasi la palla medica. Come se pesasse 8 chili quel pallone. E pian pianino, pian pianino. Il genere ha riuscito a far salire la squadra. Poi sicuramente Eusebio. L'abbiamo visto ancora una volta. Clinical davanti alla porta. Vediamo R9. Vediamo se Cruyff accorcia le distanze. Un bellissimo gol del profeta olandese. Che sfrutta molto bene il kick off. Giovi questa volta. E ancora James. Aggressivo. Riesce addirittura a recuperare palla. Somma e sta. Vierà. Attenzione a Cattè. Che ancora una volta però viene bloccato da una perfetta chiusura di Blanca. Attenzione a un 3 contro 3. 4 contro 3. Mbappé. Permessi. Che magari proverà a servire di nuovo Mbappé. Invece torna saggiamente dietro per Blanca. Si riparte da Patrick Vierà. Manè. Roberto Firmino e Cruyff. Possesso Viola. Vediamo se la Fiorentina riuscirà questa volta a non sbagliare l'uscita. Critica velata da coach al mio giocatore. Allora Cattè. Vediamo Mbappé. Torna dietro. Buono questo passaggio. Attenzione a Mbappé. 4 contro 4. Mbappé giustamente torna indietro. Cattè. Mbappé. Attenzione a R9. R9 dentro l'aria. Serie di finta e crocchetta. Non ci casca. Non ci casca. Vierà veramente bravissimo qui Gabri. A rimanere fermo. E non farsi saltare dalla crocchetta. E allora attenzione a Cruyff. Torna dietro. Vediamo serie di possesso Viola. Importante. L'olandese. Cerchi R9. R9 prova la finta di tiro ma con Militao. E come sull'Englè. I due difensori genoani. Soglia dell'attenzione. 100%. E allora si riparte con Eusebio. Che cerca questo contropiede. Ben letto. Da Van Bissagà. E allora Cantè. Mbappé. Graif. Di tacco. Per Cantè. Attenzione alla Fiorentina. Con Mbappé. Cerca di sfondare. Vede che è chiuso. Torna dietro. E allora Graif. Possesso importante della Fiorentina. Mbappé. Attenzione a Ronaldo. Sull'out di sinistra. Trova questa volta Graif. Azione importante della Fiorentina. Cantè. Prova il colpo di tacco. Tantissimi giocatori in aria. Non riesce. Il giocatore della Fiorentina. Troppi ghirigori. E quindi l'aria era troppo affollata. E quindi si dà sfogo al contropiede genuano. Però questa volta. Blanc. Chiude tutto. E fa ripartire l'azione. Ottantaquattresimo in corso. 2-1 per il Genoa. Ma è una partita. Veramente bella. Sia da vedere che da commentare. Mi sta piacendo veramente tanto. Allora Graif. Per James. Quasi in posizione centrale. Questa volta Viera fa valere il peso dei propri muscoli. E attenzione Messi. Braccato quasi da Graif. Va beh. Attenzione Eusebio fa salire la squadra. Prova una serie di finte. Attenzione all'eltuel. Si ferma. Viera. Mané. Ma questa volta Luiz. Sontuoso. Anche nel passaggio. Capisce tutto. E quindi può ripartire la Fiorentina. Minuti cruciali. Per cercare di pareggiare questa partita. Emozionante. Tra due grandi giocatori. Del panorama italiano competitivo. Jovi e Gabri. E allora vanbissacà sulla. Attenzione James. Sulla destra. Mendy. Rischia il fallo Mané. Forse abbiamo tempo per l'ultima azione. Di questo bellissimo match. Firmino. Mané. Intercetta. E mi sa che l'arbitro si. Manda tutti negli spogliatoi. E quindi il Genoa porta a casa questa vittoria. 2-1. Davvero. Davvero una bella partita. A prescindere da tutto. Molto equilibrata. Il possesso palla dalla parte della Fiorentina. Ma le occasioni. Sono state finalizzate meglio. Dal Genoa. E adesso siamo in attesa. Della partita di ritorno. Tra questi due. Grandissimi giocatori. Che stanno dando spettacolo. In questo. In questa partita. In questa diciamo giornata. Questo antipasto. Della Eseria. E dopo di questa appunto ci sarà. Lecce Genoa. Allora. Essendo somma gol ragazzi. Se Gabri. O cioè nel senso. Se Giovi. Fa 1-0. Si va. Ai supplementari. Allora. Vediamo. Il nostro sfidante. Arrivare. Mentre il buon Gio. Aspetta. Chissà cosa starà pensando. Il giocatore della Fiorentina. Come cercare di. Recuperare questa partita. Contro un avversario di livello. Veramente notevole. Vediamo. Nel frattempo aspettiamo. Il giocatore del Genoa. A prema pronto. Per dar via. Questa partita di ritorno. Tra Fiorentina e Genoa. Vediamo se sceglierà la maglia bianco crociata. Famosissima. Ed è così. Viola. Contro bianca. Ripendiamo ancora una volta la squadra del Genoa. Con quel Eusebio temibilissimo. Centrocampo muscolare. E poi ripartenze garantite da Mbappé 92. E Mane 91. La SBC. Uscita qualche mesetto fa. Che garantiva appunto le prestazioni del giocatore del Liverpool. Molto molto valido. Fortissime le doti. Sia fisiche. Che di velocità. Sulla fascia. Imprendibile. E allora siamo qui. Si riparte col calcio d'inizio. Nei piedi del giocatore Viola. Con Cruyff. Mbappé. Mbappé contro tutta la difesa del Genoa. Che infatti ha la meglio. Allora riparte. Attenzione. Mbappé. Mbappé genuano. Attenzione. Allora attenzione alla pulce. Si allunga leggermente la palla. E quindi è facile preda. Dei difensori della Fiorentina. E quindi Mbappé. Cerca sempre Renove. Ma viene chiuso. Dalla muraglia. Eretta dal duo francese. Le due Icon. Blanc e Vieira. E allora Mbappé. Canté cerca spazio. Ma è veramente difficile in questo momento della partita. Vediamo un Genoa molto molto chiuso. Per attenzione a Renove. Cerca col fisico. Di combattere contro l'Engley. Ma il giocatore francese del Barcellona. Riesce ad avere la meglio. Però. Vediamo Mbappé. Che riesce a recuperare palla. Canté. Blanca. Ancora una volta. Canté. Forza la giocata. Ma si fa perdonare. Recuperando palla. E quindi siamo. Al decimo minuto. Fiorentina. Nella metà campo. Genoana. Si cerca lo spazio. Il pertugio. La giocata. Per rimettere le cose a posto. Ma Vieira. Fa buona guardia. Attenzione al contropiede Genoano. Blanc. Mendy. E si ritorna da Mané. Una furia. Come attacca lo spazio. Ma torna saggiamente dietro. Attenzione avvierà. Attenzione. A parte anche l'inno della Fiorentina. E nel frattempo. Attenzione. Attenzione. Messi. Messi. È un gol pazzesco. Incredibile. Incredibile. Il gol di Messi. E siamo 1-0 per il Genoa. Attenzione a Van Bissacà. Van Bissacà per James. James per Van Bissacà. Allora Kanté. Craif. Roberto Firmino. Attenzione a Craif. Stavolta serve R9. L'Engle. Incredibile. Incredibile l'Engle ragazzi. Eroico. Contro il temibilissimo R9. Attenzione. Firmino. Craif. Torna indietro. Ancora Craif. Mbappé. Cerca e trova molto bene Ronaldo. Ma sbaglia il passaggio. E quindi ancora una volta Mbappé. Cerca di trovare spazio. Trova avvierà. Gliela ritorna molto bene il francese. Attenzione. Attenzione Messi. La pulce. Incredibile ancora Mbappé. Attenzione Messi. Messi. Bravissimo David Luiz. 24esimo in corso. 1-0 Genoa. Attenzione Mbappé. Mbappé in altro. Mbappé del Genoa. Fa ripartire Viera. Ma Cantefa. Buona guardia. Torna indietro da Blanc. Mendy. Mbappé. Craif. Si torna ancora dalle parti di Bobby Firmino. Azione insistita della Fiorentina. Che cerca in qualche modo di servire il numero 14. Il trequartista principale. Il fulcro del gioco. Della manovra viola. E in qualche modo si riesce a trovare Ronaldo. Ronaldo contro quattro difensori genuani. Trova Firmino. Trova lo spazio. Ter Stegen. Il portiere tedesco del Barcellona. Si supera sul tiro di Bobby Firmino. Attenzione Ronaldo. E dentro l'aria incespica. Il difensore incespicando. Fa la cosa giusta. I misteri di questo gioco sono veramente incredibili. Allora Manet. Velocità al massimo. Punta e trova Eusebio. Attenzione Eusebio. Mbappé è bellissimo. Molto molto bella la finta di tiro di Mbappé. Che fa un numero molto importante. Veramente difficile ragazzi. Da leggere. Quest'azione. Perché magari Joe si aspettava il tiro. Invece è stato proprio molto bravo. Il giocatore del Genoa. A fare la finta. Spostarsi il pallone. E colpire. A botta sicura. E siamo 2-0. Genoa. Predominio. Rosso-Blu. In questo primo tempo. Allora Eusebio. Attenzione Blanc. Contro Eusebio. Questa volta la meglio il francese. Luiz. Si cerca di forzare la giocata. Di velocizzare la manovra. Scorrono i minuti. Siamo al 37esimo. Firmino. Mbappé. E se Medo. Riesce. A far ripartire il Genoa. La pulce. Per il fenomeno. Il campioncino francese. Che riesce a saltare. Due uomini. Facendo valere. Il proprio fisico. Attenzione a Messi. Che aspettava. Il ritorno. Di Eusebio. Questa volta la difesa della Fiorentina. Fa buona guardia. Ma ancora una volta. Un'uscita. Avventata. Dei difensori. Ma questa volta. Finalmente. Van Bissaka. Chiude. E allora Cruyff. Può cercare Mbappé. 43esimo in corso. R9. Vieira. Ancora una volta. Il Genoa. Capovolgimento di fronte. Eusebio. Eusebio. Drag back. Sempre contro Blanc. Trova. Mané. In maniera molto elegante. Mané. Cerca di puntare l'aria. Questa volta Messi. Messi. Di sinistro. All'incrocio. Sfonda la porta. E forse anche. Le speranze. Della Fiorentina. Di rimontare questa partita. 3-2 minuti. Diciamo. 3-4 minuti. Di blackout. Viola. Sono valsi. Due gol. Alla squadra. Genuana. che adesso. In questo momento. In questo finale. Di primo tempo. Deve cercare. In tutti i modi. Ma attenzione. Eusebio. Incredibile. Tracollo totale. Eusebio. Con un improbabile. Numero 4. Fa proprio. Il 4-0. Del Genoa. Fine. Primo tempo. Da dimenticare. Per la squadra gigliata. Un Genoa. Molto. Molto. Efficace. Che questa volta. Ha veramente. Dominato. Il primo tempo. Non utilizzando. Più le ripartenze. Della prima partita. Ma dando. Veramente. Sfogo. Al proprio. Arsenale. Offensivo. Con Eusebio. E Messi. A far. Le gioie. Della tifoseria. Rosso blu. E quindi. Vediamo adesso. In questo momento. Il controllo. Palla. Del Genoa. Che. Tiene. Palla. Consapevole. Del risultato. Rotondo. Cerca di far salire la squadra. Attenzione. Eusebio. Si torna da Blanc. Semedo. Ancora per Mbappé. Attenzione. A Caif. Tra la morsa. Dei. Cdc. Genoani. Ronaldo. Un lenglet altissimo. Riesce a recuperare. Palla. E allora. Vierà. Per Blanc. Attenzione. All'Ionel Messi. Che trova Mbappé. Sulla destra. Mbappé. Ancora una volta. Barol. Prova ancora una volta. A rimetterla al centro. Questa volta. Eusebio. Era in fuori gioco. E quindi. Quinto gol. Negato. All'attaccante portoghese. Forse il secondo attaccante più forte del gioco. Costosissimo. La Pantera. Un sogno per tanti. Un privilegio per pochi. E si riparte con Mané. Che di forza. Fa valere. Van Bissakà. Un grissino. E allora Messi. Messi contro Blanc. Questa volta Blanc. Indovina il tempo dell'intervento. E allora Kanté. Kanté per Ronaldo. Elastico. Ancora Kanté. Van Bissakà. E inizia attenzione a Mbappé. Cerca e trova Ronaldo. Craif. E ancora James. Attenzione. R9. Contro Militao. Militao. Fa valere. La propria abilità difensiva. E si riparte ancora. Con Mbappé. Ma a me in dico questa volta. Fa buona guardia. Crocchetta di Mbappé. Craif. Trova molto bene Kanté. R9. Prova l'elastico. Franco Bollato. Da Militao. Attenzione a Craif. Prova la finta di tiro. Ma l'Engle. Una partita intera. Giocata ad altissimo livello. Del francese. Del Barcellona. Mai riuscito. A farsi superare dagli avanti viola. Veramente grandissimo. Una partita assolutamente sontuosa. Del DC francese. E allora James. Prova la Fiorentina. Con R9. Trova David Luiz. In una posizione particolare. A trovare Firmino. E allora attenzione. Mendiri recupera la palla. Firmino per Luiz. Ragiona. Ragiona. Ecco Craif. Prova. E trova Ronaldo. Ma Ronaldo è braccato. Straccato dai difensori genuani. Ma a stavolta il fenomeno. Combatte. Recupera la palla. E allora James. Cantè. Attenzione. Cantè. Per Craif. Prova. L'imbucata centrale. Ma ancora una volta uno sfavillante l'Engle. Evvierà. Libera l'aria. La metà campo. Genuana. Ma in questo momento la Fiorentina cerca di far pressing. E allora Ronaldo. Prova a dare respiro alla mano. Nuova la Viola. Craif. Sempre al limite dell'aria. Si rinnova il duello. Contro Blank. James. R9. Ancora James. Bello il tacco per R9. Che prova ancora. Ma è incredibile. Militao. Sempre al posto giusto. Non riesce a trovare. A scoccare. Il tiro sul primo palo. Molto molto ben chiuso. Dal DC. Nel Genoa. E si riparte però. Ancora sempre Fiorentina. Ottima questa manovra. Attenzione. Ronaldo. Ronaldo. Trova Cantè. Ma l'Engle. È sempre preciso. Quasi ormai una sicurezza. Nella difesa del Genoa. E Manet prova. Saggiamente. Torna indietro. Non vuole l'uno contro uno. Mentre invece. Attenzione. Eusebio. Molto bella questa manovra genoana. Ma ancora meglio. La chiusura. Della Fiorentina. Allora. Ronaldo. L'Engle. Sradica. L'ennesimo pallone. Di questa sua. Sontuosissima partita. Siamo all'ottantesimo. Attenzione. A Mbappé. Che prova. Questa volta. Però Areola. Riesce. Allungare le manone. E quindi. Si riparte. Con Cantè. Ottantaduesimo in corso. Sempre 4-0. Per la squadra genoana. E ancora. Van Bissakà. Cantè. James. Azione tutta di prima. Ma tanto. Centralmente. Blank. Fa sempre buona guardia. Allora. Cruyff. Prova. Cercare a memoria Mbappé. Che in qualche modo. Riesce a ricevere palla. Ronaldo. James. James. Torna sempre indietro. Perché. Braccato. Ragazzi. Da un Lenglet. Informato. Pallone d'oro. Un difensore. Pazzesco. E allora. Vanè. Attenzione. Vanè. Capisce tutto. E allora Blank. Mendy. Ultima azione. Ottantanovesimo. Il fenomeno. Cruyff. Il profeta. Ma ancora una volta. Militao. Indovina. Il lato. Di dove si sarebbe girato. Il profeta olandese. Ma si riparte ancora da James. Serie di batti e ribatti. Vediamo se riesce. Questa volta. A servire Cruyff. che riesce a gonfiare la rete. Bella azione. Del campione olandese. Ma ormai è troppo tardi. 4 a 1. Vittoria meritata. Per quanto riguarda. La prestazione. Veramente. Uno sbandamento. Del giocatore. Della Fiorentina. Che negli ultimi minuti. Del primo. Di fine primo tempo. Si lascia andare. Quindi. Il Genoa. In quel momento. È stato veramente clinical. A punire. La difesa viola. E quindi adesso. Vedremo quale sarà. La prossima partita. Nel frattempo. Già vi provo ad entrare. E rientrare di nuovo. Su FIFA. Comunque sicuramente. Un risultato larghissimo. Quello che abbiamo appena assistito. Vediamo se adesso dovrebbe esserci appunto. La partita. Del giocatore appunto. Del Genoa. E andiamo allora direttamente. A vederci questo Genoa Lecce. Allora vediamo nel frattempo. Mentre le squadre appunto. Stanno prendendo. Il posizionamento. Rimaniamo sulla schermata. Per poter trasmettere questo match. Tra i giallorossi e i rosso blu. per poter trasmettere questo match. TISSOL estava già presso. Per poter trasmettere il iPhone. Per poter trasmettere il iPhone. ZO. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è il foot birthday, quindi in questo momento forse c'è qualche problema di accesso alla modalità Ultimate Team perché appunto c'è questa promo lanciata appunto da FIFA che ogni anno diciamo di questo periodo Ultimate Team fa il compleanno e quindi per festeggiare questa ricorrenza appunto rilascia delle carte speciali e quindi sicuramente ci sono dei problemi nell'accesso alla modalità. Vediamo se Giò è riuscito ad entrare magari anche i ragazzi del Genoa. Sono due minuti e si inizia quindi manca veramente poco all'inizio del match. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi ragazzi in questo momento la partita che andremo a vedere riguarderà Genoa e Lecce. se il Lecce riesce a battere il Genoa allora si potrebbe addirittura profilare una situazione particolare in classifica. Mentre se il Genoa batte il Lecce dovrebbe rincontrare per la finale la Fiorentina per una partita secca. Nel frattempo che aspettiamo, infatti dicono server lentissimi. Vediamo cosa fa nel frattempo a Fiorentina mentre si prepara. Vediamo un po' Ancora niente dal lato Genoano non si riesce ad entrare purtroppo è un momento critico che con la promo lanciata. Ancora niente dal lato Genoa non si riesce ad entrare purtroppo è un momento critico. Ancora niente dal lato Genoa non si riesce ad entrare purtroppo è un momento critico. Ancora niente. Credibile. Ancora niente dal lato Genoa non si riesce ad entrare purtroppo è un momento critico. e purtroppo ragazzi veramente lenti questi server è colpa di questa situazione stiamo aspettando veramente tanto il recupero di questa partita l'inizio di questa partita ahimè le set sono un orario veramente pesante anche che comunque considerate che per la situazione che stiamo vivendo nel mondo sono tutti collegati su fifa quindi rendendo veramente quasi inagibili inaccessibili i server dei electronic cards sono un orario di questa partita che si è un orario di questa partita a proprio niente Nel frattempo la Fiorentina cerca di riscaldarsi in vista di una possibile finale contro il Genoa Un po' soffermiamoci sul canale Viola per vedere se magari si riesce a trovare un avversario e così infatti vedete ragazzi anche la ricerca delle partite in questo momento sembra quasi disabilitata rallentata al massimo quindi per questo sicuramente i giocatori di Genoa e Lecce avranno il loro da fare per cercare di matcharsi e dar vita a questo terzo scontro della serata dopo Fiorentina-Lecce Genoa-Fiorentina è il turno di Genoa-Lecce è il turno di Genoa-Fiorentina e aspettiamo vediamo se per caso dall'altro lato ancora nada il Geno diciamo che ci sta appunto rassicurando dicendo appunto ragazzi a chi si fosse collegato adesso ci sono problemi nei server di FIFA e quindi non riusciamo a per adesso a mandare in onda la partita che sicuramente i due ragazzi non riusciranno non stanno riuscendo in questo momento a matcharsi a scontrarsi e quindi a dar vita alla terza sfida di questa serata tra Genoa e Lecce tanto la Fiorentina riesce a trovare un avversario nel frattempo che si allena gustiamoci un po' questa partita nell'attesa tantissimi infatti è incredibile ragazzi non riescono nemmeno a giocare chi vuole fare una partita normale anche chi è dentro il gioco ci sono dei problemi incredibili pazzesco vediamo dal lato Genoa è successo qualcosa ma niente come era prevedibile purtroppo non è responsabilità dei ragazzi ma il momento in questo momento grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hanno difficoltà a matcharsi in una situazione particolare. Grazie a tutti. Andiamo in attesa. Andiamo al lato Fiorentina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, c'è proprio lo sgomento anche del giocatore del Genoa. Che prova in tutti i modi ad entrare e quello della Fiorentina che prova a matchare una partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pazzesco. Entra. Grazie a tutti. Anche dal lato Fiorentina. Anche dal lato Fiorentina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.